tra i cinque finalisti della quindicesima edizione del premio letterario galileo per la divulgazione scientifica è stato selezionato la natura geniale come e perché le piante cambieranno e salveranno il pianeta volume a firma di barbara mazzolai edito dal longanesi barbara mazzolai dirige il centro di micro bio robotica dell'istituto italiano di tecnologia nel 2012 ha coordinato il progetto europeo che ha dato vita al primo robot ispirato al mondo vegetale il plantoide e oggi è a capo del progetto robot per la creazione di robot in grado di arrampicarsi e adattarsi all'ambiente circostante così come fanno le piante barbara mazzolai è con noi oggi al bolai per parlare del suo libro buongiorno dottoressa e benvenuta buongiorno grazie io partirei dottoressa innanzitutto dal titolo del suo libro perché la natura è geniale la natura è geniale perché ha avuto diciamo molto tempo per adattarsi a ambienti mutevoli quindi ha trovato delle soluzioni appunto per per risolvere problemi complessi ecco perché per noi è geniale no perché da sempre l'uomo guarda al mondo della natura per trovare risposte a problemi in settori diversi è quello che facciamo anche noi diciamo nel mondo della robotica lei sostiene che si deve guardare alla natura con uno sguardo diverso che cosa intende intendo che va osservata l'osservazione è il primo punto del metodo scientifico e ci dice appunto che è qualcosa di più di vedere no cioè dobbiamo veramente capire osservando quali sono le strategie adattative e da lì partire poi per cercare di tradurre quello che noi vediamo quello che noi osserviamo in qualcosa di diverso che possa essere appunto nel mondo artificiale o in qualcos'altro ma prima di intervenire anche nel mondo della natura dovremmo veramente osservarla capire che cosa fanno gli esseri viventi come dicevo per adattarsi al mondo circostante osservare la natura per fare innovazione è una pratica scientifica in un certo senso ancestrale lei scrive nel volume cosa intende e quando avviene l'incontro tra robotica e natura sì noi che ci occupiamo diciamo di robotica bio ispirata in realtà non abbiamo inventato niente cioè è un metodo che veramente risale nel passato leonardo da vinci è uno dei padri forse il padre della della biomimetica e ha sempre appunto guardato la natura con un occhio diverso ecco cosa dobbiamo fare cioè dobbiamo riprendere questi questi insegnamenti e davvero capirne segreti no perché non è soltanto un'imitazione ma è veramente cercare di implementare i principi alla base determinati funzionamenti e questo è quello che abbiamo sempre cercato di fare neanche nel passato cioè l'uomo ha sempre guardato la natura per trovare appunto risposte come dicevo complesse quindi nella robotica bio ispirata di fatto è questo che facciamo cioè guardiamo al mondo della natura gli esseri viventi non solo le piante ovviamente anzi tipicamente al mondo animale e per emitarne determinate funzionalità quindi realizzare poi delle macchine che siano più in grado di operare in ambienti mutevoli no proprio dove su quelli ambienti dove poi si trovano operare anche gli esseri gli esseri viventi quando una decina di anni fa ha iniziato a proporre l'idea di robot ispirate alle piante quindi ha iniziato a lavorare al plantoide la comunità scientifica ha reagito in realtà con scetticismo anche perché fino a quel momento ci si ispirava soprattutto al mondo animale a cosa era dovuto questo atteggiamento e oggi è stato superato l'atteggiamento era dovuto proprio al modello pianta no questo l'ho capito come già voluto un certo periodo tempo anche a meno per metabolizzare quale fosse il problema perché è di fatto anche studiando il passato no mi sono resa conto che c'è questa questo scetticismo nei confronti proprio del modello pianta no cioè viene spesso considerato come un essere statico che non interagisce con il mondo circostante non comunica non percepisce il mondo soprattutto non si muove no e poi ci rendiamo conto che in realtà non è così tutte queste caratteristiche sono fondamentali nel mondo della robotica e quindi i miei colleghi non vedevano nella pianta una soluzione proprio perché non capivano come si potesse implementare un modello come la pianta che non ha appunto secondo loro non aveva queste caratteristiche in un robot che si deve muovere deve percepire l'ambiente a un certo grado di intelligenza e così via. In realtà poi sappiamo che le piante in realtà si muovono tra l'altro lo fanno per tutta la vita no quindi hanno proprio una spesso lo fanno attraverso una appunto una crescita che avviene in maniera indeterminata no quindi associano il movimento alla crescita aumentano quindi in questo modo percepiscono l'ambiente specialmente a livello a livello apicale no delle loro strutture quindi interagiscono invece con il mondo circostante comunicano con l'esterno con tra di loro ma anche con altri organismi e tutte queste caratteristiche le stiamo appunto imitando nel mondo della della tecnologia della robotica quindi adesso effettivamente c'è una diversa percezione si inizia a parlare di robot che crescono no quindi nata proprio una vera e propria diciamo area della robotica soprattutto della robotica bio ispirata della robotica soft che prende a modello prevalentemente le piante perché sono quelle che riescono meglio a come dicevo associare il movimento alla crescita e quindi qualcosa devo dire che sta cambiando anche nel mondo della robotica e c'è un'altra un'altra percezione proprio del mondo vegetale per cui quando adesso presento le piante in realtà non c'è quel no quello scetticismo iniziale concentriamoci proprio sul suo progetto se vogliamo per eccellenza cioè il plantoide lei è stata la prima a riuscire a creare un robot ispirato al mondo vegetale come è venuta l'idea e a quali risultati poi siete arrivati allora l'idea è venuta un po' da una domanda scientifica ma anche da un diciamo dalla necessità di sviluppare dei robot autonomi per il monitoraggio ambientale in particolare per il suolo io provengo dal mondo della biofisica oltre che da quello della della biologia mi sono sempre occupata in passato di impatto ambientale quindi di inquinanti no e facevo analisi diciamo con approcci più tradizionali quindi campionamento analisi con tecnologie di laboratorio però la robotica in realtà può rivoluzionare questo mondo insieme anche all'intelligenza artificiale creando dei robot autonomi che vanno a fare il monitoraggio dell'ambiente il suolo è uno dei diciamo degli ambienti più difficili sulla terra da monitorare proprio perché è un ambiente eterogeneo mutevole no quindi con alte pressioni eccetera e le piante con le loro radici sono quelle maggiormente adattate a questo ambiente estremo cioè riescono a muoversi in maniera molto efficiente perché hanno una strategia di crescita all'apice cioè alla punta della della radice aggiungendo cellule riducendo in questo modo proprio la pressione e gli attriti esplorando il mondo attraverso le capacità sensoriali che sono soprattutto nell'apice radicale quindi un modello perfetto e da lì siamo partiti per implementare queste caratteristiche in un robot che cresce per aggiunta di materiale anche in questo caso all'apice radicale del robot e ovviamente con materiale artificiale non è non sono cellule ma abbiamo tradotto questo principio della della crescita in una in un processo basato su una stampante 3d miniaturizzata nella punta del robot e quindi il robot effettivamente crea il suo corpo mentre penetra nel suolo e quindi il monitoraggio ambientale l'agricoltura ma anche risposta dal punto di vista biologico proprio capire utilizzare la robotica per capire meglio funzionamento biologico in questo caso della radice perché il robot è un corpo e agisce nello stesso mondo quindi nella stessa fisica dove dove agisce l'elemento biologico quindi questa è anche una tendenza del futuro della robotica biospirata cioè utilizzare robot per capire meglio il modello biologico dal quale partiamo quindi aumentare anche la conoscenza da un punto di vista scientifico non soltanto applicativo lei dedica le ultime pagine gli ultimi capitoli del suo libro a un progetto che tutto rinesse a cui vi state dedicando che robot ci illustra di che cosa si tratta si sempre crescita no quindi noi come diceva abbiamo proprio prodotto proposto per la prima volta la crescita come nuova strategia di movimento in robotica e questa volta però non nel suolo ma nell'aria e prendendo ispirazione dalle piante rampicanti che hanno delle strategie adattative diverse dalle altre piante cioè solitamente una pianta rampicante non sviluppa un tronco molto robusto oppure un apparato radicale sviluppo veramente sviluppato come un albero ad esempio ma utilizza la maggior parte dell'energia che ha a disposizione per crescere più velocemente rispetto alle altre piante verso la luce quindi stabilisce una vera e propria competizione con le altre piante quindi cresce e adatta il suo corpo all'ambiente circostante si attacca crea viticci eh spine sistemi adesivi no quindi stiamo imitando eh tutte queste caratteristiche nel mondo dell'artificiale per creare dei robot che si muovono anche in ambienti difficili ad esempio tra le rovine no comunque adattano il corpo mentre mentre si muovono e servono per l'esplorazione anche in questo caso eh soprattutto ambientale ma possono essere anche eh utilizzate ad esempio nella ricerca di di reperti archeologici no quindi anche eh andare a eh esplorare ambienti difficili che normalmente altri robot o sistemi diciamo tradizionali non non possono diciamo non possono essere utilizzati proprio per la difficoltà dell'ambiente in cui si trova a muoversi il robot o il sistema artificiale e quindi le piante rampicanti ci stanno offrendo veramente tante soluzioni diverse sia in termini di come dicevo strategia di movimento ma anche di localizzazione di un supporto e quindi stiamo proponendo delle soluzioni anche comportamentali del robot basate proprio sulla strategia di ricerca della della pianta rampicante che non sono basate sulla visione e queste sono tutte strategie nuove nel mondo della della robotica perché è nuovo il modello è nuovo il modello pianta e quindi tutto ciò che stiamo generando in qualche modo eh è innovativo proprio perché proviene da un mondo che non è quello animale e quindi con strategie totalmente diverse. Lei scrive nelle ultime pagine del libro cito dobbiamo ancora comprendere e interiorizzare le reali responsabilità che ci vengono poste dallo sviluppo di queste tecnologie. Che cosa intende? intendo che anche noi che sviluppiamo tecnologia dobbiamo sempre eh considerare l'impatto no della della tecnologia che sviluppiamo cioè sempre di più questa tecnologia soprattutto tecnologie ispirate al mondo della natura che dovranno essere utilizzate sempre di più per il monitoraggio ambientale no per un'agricoltura di precisione dovranno ridurre il loro impatto sull'ambiente cioè dovremmo eh sviluppare dei materiali che sono biodegradabili delle forme energetiche che magari utilizzano proprio anche l'ambiente circostante e anche in questa direzione che noi stiamo eh lavorando è molto difficile perché significa sviluppare materiali diversi appunto forme energetiche alternative no quindi è un processo complesso però ritengo che chi fa eh tecnologia debba anche considerare questi aspetti di minore impatto ambientale maggiore sostenibilità anche della tecnologia che che sviluppano quindi è un processo che richiede del tempo ma assolutamente deve essere affrontato adesso per eh proporre delle soluzioni innovative e realizzabili nei prossimi anni. Mi riallaccio a quello che eh lei ha appena detto citando anche il suo il sottotitolo del libro per farle approfondire questo concetto. Lei scrive come e perché le le piante cambieranno e salveranno il pianeta come riusciranno a farlo nello specifico? Allora sicuramente lo fanno dandoci la vita no? Questo è il primo punto che spesso in qualche modo eh sottovalutiamo perché noi viviamo grazie no alle piante che forniscono il pianeta di ossigeno ma in realtà io intendevo anche proprio da un punto di vista artificiale eh quindi eh soluzioni che ehm sono più compatibili con i sistemi naturali proprio perché vengono da dalle piante dai materiali eh che stiamo eh studiando proprio nelle piante per realizzare per esempio dei materiali che hanno eh si chiamano multifunzionali quindi rispondono alle variazioni delle delle dell'umidità o comunque delle condizioni ambientali e quindi diventano dei materiali dei futuri robot no? Quindi più sostenibili perché eh non sono rigidi no? Ma vengono proprio eh integrati nel ciclo di vita potremmo dire de del sistema artificiale eh forme energetiche cioè ci stanno insegnando a come progettare robot o comunque macchine che consumano meno sono più eh integrate anche in questo senso negli ecosistemi ehm ci insegnano come avvengono le relazioni no? Tra tra gli organismi quindi tra le piante che rappresentano il primo anello della catena alimentare e tutti gli altri organismi e quindi attraverso anche un processo artificiale capiamo meglio come funzionano gli ecosistemi e questo significa che possiamo intervenire nel futuro con maggiore consapevolezza no? Quindi anche attraverso un processo di eh tecnologia che passa dalla bio ispirazione e veramente ci stanno insegnando tantissime cose su come essere più sostenibili perché io credo che questo sia uno dei principali eh obblighi no? Doveri eh di chi fa eh tecnologia no? Come quello che stiamo facendo noi proprio essere più integrati negli ecosistemi e le piante eh su questo sono veramente le le maestre no? cioè ci insegnano come farlo quindi eh più rispetto per le piante perché ci danno la vita ma anche capire come loro si adattano al mondo circostante perché possiamo veramente imparare appunto eh sistemi energetici più innovativi eh materiali più eh diciamo ecologici integrati nel nel sistema progettazioni eh di macchine appunto che servono proprio per studiare gli ecosistemi direttamente in campo ehm ci sono veramente tanti aspetti che eh tratto nel libro eh ovviamente soltanto i primi i primi accenni perché in realtà è una linea di ricerca che sta esplodendo potremmo dire no? E quindi è veramente in crescita in maniera dinamica eh però ecco questi sono i principi che che vogliamo implementare nei robot di domani. Le piante producono anche elettricità? Sì questo è un altro aspetto che stiamo studiando proprio nell'ottica dell'energia no? Che dicevamo ovviamente non è non è un'energia che può sostituire quella da combustibili fossili però è è qualcosa di di interessante perché proprio recentemente pochi anni fa abbiamo scoperto per caso devo dire che le foglie delle piante quando vengono stimolate meccanicamente no? Attraverso il il tatto con il contatto con materiali soffici come polimeri eccetera producono delle cariche che vengono compensate diciamo cariche positive e cariche negative che noi sfruttiamo utilizziamo per alimentare dei dispositivi artificiali che siano sensori che siano luci no? e quindi il nostro sogno il nostro obiettivo è quello di creare degli alberi quindi utilizzare proprio le piante reali che ci sono nel nostro ambiente eh come eh diciamo sistemi ibridi no? Quindi piante naturale e piante artificiali mosse dal vento che producono queste cariche che alimenteranno sempre di più man mano che aumenta anche l'efficienza di produzione attraverso questi materiali artificiali che possono alimentare luci eh sensori no? Quindi fare anche in questo caso monitoraggio ambientale attraverso l'alimentazione che sfrutta l'energia delle piante stesse no? Quindi veramente un potremmo dire un'energia veramente verde eh che parte da dalle piante senza ovviamente danneggiarle quindi c'è uno studio proprio anche di compatibilità con il modello pianta senza appunto creare danno alla fisiologia poi lo sviluppo la crescita della pianta e il processo è complesso da un punto di vista proprio dello studio eh alla base di questo fenomeno però stiamo ottenendo risultati veramente promettenti e interessanti e questa forse è un'altra un'altra strada da percorrere insieme a quella per esempio della fotosintesi artificiale no? Cioè di molte altre soluzioni energetiche che le piante ci stanno suggerendo perché anche da questo punto di vista abbiamo molto molto da imparare